Salve a tutti, siamo qui sulla macchina di una mia amica, non faccio nomi perché è una pentita di mafia, scherzo. La mia amica Patrizia, saluta. Ciao. E stiamo, dove siamo qua? Dimmi bene dove siamo. Sulla rivoltana. Siamo tra l'aeroporto e l'idroscano. Guardate quanto poco traffico c'è. Per i lavori della Brebemi. Per il lavoro della Brebemi, guardate. Beh, ogni tanto ricordiamoci i lavori della Brebemi. C'è pure il camion dell'esse lunga. Vediamo quanto tempo ci mettiamo, eh. Vedi come si filma bene quel notte. Che bello, l'idroscano. Io ho dovuto diminuire la risoluzione, se no non mi carichiamo. Vabbè, vicino a me ci sono tre tipi, tre tamarri, ma meglio non ve li faccio inquadrare. Tre che potrebbero andare a uomini e donne. Guardate che traffico, guardate. Siamo fermi. Questa è famosa. Ti metto anche la canzone che preferisco. Così ti faccio anche sottofondo. Bella, anche a me piace. Di chi è? Mika e Chiara. Io adoro Mika. Ne hai visto Mika con... Bellissimo. Con Dario Fo. A me Dario Fo non piaceva perché non essendo milanese non lo capivo. Io ho detto che vi posso fare una musica. Veramente è molto forte, sicuramente. Sul mio canale YouTube. Noi vediamo su sì. In viaggio con la mia amica Sara E con la mia amica Patrizia Mai, vinciamo noi Ma che sciacchini che abbiamo fatto La group che si vede da lontano Io resterò ferma perché Tu non vorrai stare con me I could put a little sun in your eyes Put a little sunshine in your eyes Give me a little hope you feel the same I wanna know L'hai visto la consultazione dei nostri parlamentari? Dove Matteo Dallosso ha detto che vuole il copyright Per vinciamo noi Che la frase è la sua Sì ci copiano No voglio il copyright perché la frase è mia Sì lui Perché lui l'ha detto perché lui sta combattendo contro una malattia Ci stanno facendo ammalare tutti Io sto diventando un po' chiondria Perché che sento sento Vabbè Ma tanto vinciamo noi Colmone d'acciaio diventerà Passeremo qui a Natale Della prossima qual è? Ti ho rimesso quella Ne vuoi un'altra? No questa qua Adesso stiamo in silenzio per tutta la canzone Rimettila che stiamo in silenzio Ah no 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 toglila Perché YouTube non me la fa caricare se c'è la musica Perché riconosce ora mi è venuta in mente Quindi non te la metti sotto Per il copyright Solo musica common Adesso vediamo Sai che lo devo rifare perché c'è la musica Ma se tu non puoi condividere il video e basta Senza metterlo su YouTube Lo metti su Facebook Questo si Eh scusa fai così Però a me piace metterlo nel mio canale Allora questo qui Facciamo così Sì questo qui lo facciamo Ma io provo a metterlo nel mio canale Vuol dire che quando c'è sta musica Gli cambia la musica Se vuoi metterla metti Sì o se no la metti su Facebook Cambierò la musica io Tu metti Poi quando facciamo i nostri Semmai Come visto Come sentiamo Questa di prima Stardust 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 non è Fermamente Stardust Ne star Non è star sì Non è star sì Non è star sì Non è star sì Stardust Stardust I wanna know if I see you again I said I love you, you said goodbye Everything changes in a blink of an eye It's been a while, I still carry the flame I wanna know if I see you again Vieni con me, vieni con me Io resterò, tui sverma finché Tu non vorrai, stare con me I could put a little sadness in your eyes And put a little sunshine in your lies Give me a little hope you feel the same And I wanna know if I see you again If I see you again Cause you're not even there I'm writing this song And you don't even care Give me a little love, I'll open the door Pick up my heart That you left on the floor On the floor On the floor Io resterò, tui sverma finché Tu non vorrai Stare con me I could put a little sadness in your eyes I could put a little sadness in your eyes I could put a little sunshine in your eyes Questo video lo condividerò su Facebook Poi ci cambierò la musica e lo metterò sul mio canale Tanto le nostre voce ho anche a 3 sempre I could fix it If I did watch I won't wait Sì, ma almeno aiutasse ad avere meno traffico. Aiuta anche il che si rogono le tasche di soldi. Adesso fra poco avremo anche il centro commerciale. Siamo ancora a Tregherezzo? Sì, ancora passiamo. Una bella persona verica. A domani mi accompagna la mia... No, Maria Grazia mi accompagna da... Da coso. Non so neanche a che lo devo andare da Leo. Domani faccio l'intervista a Leo. Ah sì, dove? Lì al Marconi. Ma ancora lì, è vero. Tutte le volte che io non ci sono. Vabbè, se vuoi venire siete liberi. Noi siamo lì alle 4. Ma chissà che ora arrivo. Ma io non te lo dico perché... Anzi, devo ancora chiedere. Poi non so se... Guarda che bel laghetto che c'è qua. Allora è quello che ha fatto un Good reset. C'è mezz'ora per fare un pezzettino di strada... Tutto è Mika sono? Sì, sì, le cose di Mika. Questo è l'ultimo. Mika è quello che ha fatto anche... Gress Kelly? Sì. Perché questa è fortissima, questa è una delle... Ah, mi piace. Ma è un CD? me l'ha scaricato con la chiavetta che mette in silvi e le musica le può cuire si ma lui ha detto che non le stuzie l'avevo sentito che lui non sa l'amore come Dario Po hai sentito che avevano molte cose in comune con Dario Po si troppo forte mamma mia aiuto frontale stavamo mettendo sotto la mira adesso si ricomincia a scorrere adesso c'è qualcosa guardate lì la trafica adesso c'è qualcosa altro da filmare se no prendiamo qua diciamo che io sono più amante della musica italiana anche se mica lo apprezzo dopo io ci userei Cremonini Luca Caraboni no Luca Caraboni da una vita che sai che non lo uccido io? io ascolto la musica che mi sento in quel momento è da una vita che non compro CD non si carico CD no io quando voglio vado su Youtube e sento la canzone che mi piace a me io perché li sento in macchina io no madò ragazzi guarda 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 l'ho già cantata no e volevo produrare a chilometri in zero produrare a chilometri in zero guarda che mostri che abbiamo altro che i mostri dei cartoni ma cimitero a chilometri in zero sicuramente andrà tutto bene l'8 marzo dobbiamo fare una festa noi donne del movimento magari invitano anche delle parlamentari guardate che scrive tutti i ponti stanno diventando segrate magari vecchiamo anche il sindaco per segrate guarda quanta terra